buongiorno nuovo tutorial su da vinci resolve un editor video gratuito per windows ma che linux per nascondere un watermark in un video un watermark o filigrana è un logo posizionato solitamente in uno dei quattro angoli del video messo dal proprietario del video per diciamo così affermare la sua paternità quindi chiaramente per nasconderlo si potrebbe mettere sopra una toppa nera il risultato è già fatto con da vinci resolve però possiamo fare in modo di nasconderlo senza diciamo così danneggiare il video da vinci resolve si scarica da questa pagina si installa da questa pagina si va qui su scarica si sceglie da vincere solo 15 il proprio sistema operativo mac windows e linux dopo averlo fatto si mettono nome cognome e indirizzo email per poi poter scaricare il file e passare alla sua installazione questo è da vinci resolve apriamolo è un programma piuttosto potente questa è la versione 15 l'ultima versione programma che il cui file di installazione pesa un gigabyte quindi programma piuttosto grosso alla prima schermata si vedrà una schermata molto minimalista in cui andare semplicemente su new project per creare un nuovo progetto si va su new project da un nome al progetto chiamiamolo no watermark visto che sarà un progetto per nascondere un watermark si va su create e si aprirà l'interfaccia di da vinci resolve che come vedete è formata da sei schede la prima scheda media la scheda media magari in questo caso non ci serve neppure passiamo direttamente la seconda scheda la scheda edit per trascinare un in quest'area chiamata media pool il video su cui operare abbiamo visto che il video è questo qua che abbiamo preso come test lo trasciniamo qui come vedete è apparsa una finestra di dialogo significa che il video che ho aggiunto a una frame rate diverso da quello nativo di da vinci risolve che è di 24 fotogrammi al secondo quindi vado sul change per uniformare il numero dei fotogrammi al secondo di da vinci risolve con quello del video e allora verrà aggiunto qua la la miniatura del video stesso se adesso io vado qua su questi su questo menu dei tre puntini vediamo che infatti frame rate è di 29,970 quindi diverso da 24 quello nativo di da vinci risolve secondo operazione quello di trasportare la miniatura del video sulla stai in line da vinci risolve si chiama in un altro modo adesso non mi ricordo come si chiama comunque il concetto è quello si trascina questa è la time line il video è senza audio ma poteva benissimo avere anche l'audio qui il watermark sta sempre nella stessa posizione qui si sposta l'indicatore di produzione si vede che rimane sempre nella stessa posizione se delle volte può capitare che viene posizionato in posti diversi del video in questo caso e non ci rimane altro che dividere il video in varie parti per nascondere il il watermark in tutte le clip che noi si crea che si creano per esempio se da qui da questo punto in poi magari il watermark si sposta in alto a destra in basso a sinistra si va qua su questa su questo strumento che si chiama blade per dividere il video in due parti in tre in quattro parti in tutto quello che ci servono per suddividere il video nelle posizioni diciamo così che assume il watermark in questo caso non occorre farlo si lascia tutto com'è basta una sola clip e andiamo su questa scheda fa che si chiama color qui chiaramente si vede ancora l'anteprima del video questo è una specie di diagramma di flusso questo è il nodo che viene creato automaticamente ci si clicca suba con il resto del mouse e si va su add node add serial per aggiungere un altro nodo verrà aggiunto un altro nodo che verrà anche selezionato automaticamente è colorato di rosso adesso noi dobbiamo in questo nuovo nodo selezionare l'area del watermark l'area del video in cui c'è il watermark si va quindi in questi strumenti qui in basso questo strumento windows scegliamo per esempio questo questo qui che è un quadrato che è quello più adatto per selezionare quel tipo di area qui si vedrà questo quadrato si può spostare questo quadrato qua su poi chiaramente si con il cursore si fa in modo si fa andare il video per vedere che effettivamente rimanga sempre al di sotto che la selezione sia sempre corretta ma in questo caso non occorre pure perché rimane sempre nello stesso punto il watermark dove abbiamo fatto questa operazione cioè abbiamo selezionato il watermark adesso dobbiamo sostituire a questa area del video un'altra area quindi dobbiamo spostare il watermark in un'altra potremmo fare la selezione in un'altra zona quindi andiamo su questo nuovo strumento che si chiama qui tracker questo strumento tracker possiamo spostare questa selezione per esempio qui accanto in questo caso lo watermark sarà coperto da questa da il cielo che si trova qui sulla sinistra ecco fatto questo non è però sufficiente perché dobbiamo andare adesso su quest'altro strumento che si chiama sizing mi pare che si chiami si sizing ci si clicca sopra si va qua su questo menu in cui scegliere non si vuole aprire eccolo qua node sizing qui questi numeri qua servono per spostare il la selezione la selezione che abbiamo operato la selezione c'è sempre come potete vedere anche se non si vede è in questa zona qua noi dobbiamo fare in modo di spostarla sulla destra quindi dobbiamo operare su questo numero su questo numero pan se ci si passa sopra con il mouse come vedete il mouse prendono una forma diversa ci si clicca sopra e io sposto sulla destra per spostare come vedete si sposta automaticamente io sto nascondendo watermark però in questo caso rimane una qualcosa ancora da coprire in questo caso sposto sulla sinistra il tilt e adesso è completamente coperto io faccio andare posso far andare la riproduzione per vedere se la copertura è perfetta come vedete è abbastanza buona certo quando cambierà la scena sarà magari non così perfetta però è assolutamente apprezzabile quindi non resta che passare alla diciamo così esportazione del video attraverso la scheda che si chiama deliver che è questa qua in basso si va su deliver questa è la nuova scheda deliver per esportare il lavoro si va qui su file name si dà un nome chiamiamolo no watermark il nome del file su browse si sceglie la cartella di destinazione si dà una cartella download si va su save qui il formato scegliamo scegliamo mp4 e adesso andiamo qua su add to render queue per aggiungere questa codifica a quest'area di di lavoro che adesso è vuota cioè su add to render queue viene aggiunta questo questa nuova questo nuovo lavoro si va su start render per iniziare la codifica del video che durerà ovviamente in funzione della lunghezza del video da processare la codifica sta per terminare quando sarà terminata potremo riprodurre il file per vedere la differenza se vi ricordate questo è il file iniziale con questo watermark qua sulla destra e questo è il file adesso dopo la modifica come vedete il risultato è veramente eccellente in taluni casi neppure si riesce a vedere se il watermark invece di essere stato molto grande come in questo caso era piccolissimo magari si notava ancora di meno questo è un sistema per nascondere il watermark senza diciamo così metterci una toppa nera sopra che è sempre molto brutta alla prossima